www.mauriziofrencia.it Ciao, mi chiamo Maurizio Frencia. Sono il prodotto regionale per le prodotti di Dimensionstone. In questo video di walk-around parlerò di uno dei top hammer drill rig in nostro portafoglio, il Speedrock 2F. Speedrock 2F è un rig di top hammer idraulico con il propósito principale di drillare e di bloccare in Dimensionstone quarries. Il peso è di circa 26 toni. Ora facciamo vedere i tre principali benefici. Il drillare e il posizionamento offrono alta produttività. La rotazione di carriera di 360 gradi e l'estensione di boom-reach significa un'area di scoperta grande. La potenza di terreno e la consumazione di combustione di combustione di fuel significa un'efficienza in operazione. Il Speedrock 2F è equipato con due drillare di drillare idraulico con un bar di raccoglio. Le drillare di raccoglio possono operare indipendentemente da un altro. Le capacità di drillare su 125 m di linea, a causa delle condizioni di raccoglio. Il drillare di raccoglio, in combinazione con la bar di raccoglio, garantirà strati e parallele che sono perfettamente alineati. Il Speedrock 2F è equipato con una guardia protettiva che preventa l'intervento di operatore quando lavorando vicino alle parti. Il guardia protettiva è completamente complementato con le regolazioni di CE. Precisione e la velocità sono i due fattori principali quando posizionando il rig. L'unico design del Speedrock 2F permette di posizionare la posizionamento dei due fili. L'unico design del Speedrock 2F sono due posizioni in cilindro alla base del frame. La combinazione di tutti i movimenti possibili del frame fa per posizionare facile e facile. Tutto questo e più può essere controllato dal controllo di radio remote, giocando all'operatore una migliore vista migliore della zona lavorativa e aumenta la sicurezza. La posizionamento e la posizionamento possono anche essere fatta da dentro del cabine. Per questo, l'acquipamento di camera è disponibile per aiutare l'operatore. L'acquipamento del Speedrock 2F ha un design di ruota che permette di ottenere una rotazione di 360 gradi. Questo, in combinazione con un'attività di boom, giocando al rig ha un'area di cover. Il Speedrock 2F ha 4 braccia di supporti per la stabilità in operazione e per la sicurezza. Il Speedrock 2F è una riga di stabilità e stabilita di trill. Tramming è sia facile e sicuro per l'operatore, grazie alla high ground clearance e grid terrainability. Un'altra domanda che ho ricevuto frequentemente da un cliente è perché le tira invece delle trill. L'acquipamento di trill. È una misconceptione che l'acquipamento di trill. L'acquipamento di trill. L'acquipamento di trill. L'acquipamento di trill. Con il Speedrock 2F abbiamo provato che le tira funzionano molto bene. Anche in trill. Il trill. Il tramming può essere fatto da dentro la cabina e con il controllo remoto. Considerando la capacità di produzione, la consumazione di fuel del Speedrock 2F è estremamente alta. 11 litri per l'ora, per l'avere. Questo lo mette molto avanti da tutti i competenzi sul mercato. In questo video di trill. Abbiamo visto il Speedrock 2F e i tre principali benefici. Il trill. Il trill. Il trill. Il trill. Il trill. Il trill. Il fattore di amici.